Pronto? Vai! Mary un giro, ricordalo, vai! Vai Ludo! Se sta bene vai, respira tranquillo, vai! Vai Katia! Dai Maria Giulia, forza! Questi li devi prendere, forza! C'è un gruppetto di tre, dai a gancia, vai! Scusa! Ale! Sciolta, sciolta, attaccata! Ale, stai coperta! Non lasciargli spazio! Scusa! Dai Maria Giulia, li puoi prendere ancora, ci sei! Credici un pochettino, dai Mary, li puoi prendere questi tre, dai! Vai Ale! Vai Ale! Vai Ale! Vai Ale, dai Ale! Dai che non manca tanto! Vai Ale! Vai Ale, resisti! Vai Ale! Vai Ale! Guarda il cerchio! Vai Maria Giulia, dai! Vai Maria Giulia, dai! Dai Cavi che così è finita! Vai, resisti Cavi! Vai, vai Cavi! Veloce Mary, veloce! Vai Katia! Vai Katia! Vai Katia! Vai Katia! Mary, 300 metri, 300 metri Mary, forza! Vai Katia, resisti! Ce l'hai attaccati lì, dai adesso, adesso fa la differenza, adesso! Vai! Dai, forza Mary! Zona arrivo per Annalisa Barone, atletica Verbania, per Camilla Pereno, atletica Savoia. Vai Mary, vai, vai! Vai Mary! Zona arrivo per Alice Gattoni, della Chiaddese. Zona arrivo per Enrica Bergesio, atletica Susa, e per Isotta Galfreda, e per Maria Chirmani.